Una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. Così il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, commenta la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Rina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia. I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia e in particolare al ross dei carabinieri. Alla procura nazionale antimafia e alla procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa. Il governo, prosegue la presidente Meloni, assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo, la difesa del carcero stativo, ha riguardato proprio questa materia. Eugenio Barbero per l'Agenzia Italia News.